Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Energy e siamo qui tornati su My Hero Once Justice con il terzo episodio Dove eravamo rimasti? Ok ragazzi, nello scorso episodio siamo arrivati alla missione numero 17, quindi oggi dovremo continuare con la 18 Iniziamo a trasportare sul corso. Il finale è attiva l'attività del effort del corso. L'attività del corso in attività della felicità, non è stato fatto per il corso nella nella scuola La scuola del corso in attività dei corso. È una scuola del corso, ma non ci sono ancora e l'attività del corso in attività. L'attività del corso in attività. Nocun che è stato a scuola in attività. ok ragazzi adesso come vedete dobbiamo fare due what if nello scorso episodio vi ho spiegato come funzionano e quindi oggi andiamo a farne un po' e andiamo così e che partenza non mi ricordo più i comandi esquiva come si parava ah buono abbiamo iniziato bene mi ha finito malissimo vabbè ok ragazzi il 19 l'abbiamo fatto senza troppe difficoltà allora possiamo scegliere tra ben 3 personaggi io ovviamente scelgo chi dice andiamo vai così vai così vai così vai così dai se a caso si andiamo avanti così chi rischio ma non si può essere esperto l'abbiamo preso un applauso per chi riesce ma che cosa ha fatto che cosa ha fatto attenzione ma c'è un'altra cinematica che cosa ha fatto ci siamo? eh! non mi ricordo più come si usa l'origlia adesso si no scusi ho sbagliato non l'ho fatto un po' scusate no l'ho mancato qui siamo? siamo fuori dalla mappa ma scusa stiamo volando fuori dalla mappa non sono soddisfatto direi di rifarla questa sono soddisfatto prima di iniziare la prossima missione che è sempre con Midoriya volevo andare a vedere se si potesse personalizzare un po' in qualche modo e olè vai ok così lanciamo muschia e continuiamo così tranquillamente no ho sbagliato il tempo mi ha tolto mezza vita anche se si ok un'altra volta no così cato giù cosa cato giù oddio aiuto cosa cata giù ho sbagliato Ahia, voglio fino La missa, la, la, no, 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 no E ovviamente Allora adesso possiamo fare due cose Può andare al 25 ma io direttamente farei al 24 perché dobbiamo completare tutto insomma Vai andiamo 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 Così continuo così con la stessa comba è finita la partita Ahia, è stato blu Aspetta appena si rialza No, non mancato Vabbè vorrà dire che dovevo riuscire un po' così Aia Pugnozzo in faccia e la finiamo così Andiamo Vai Attenzione Noi tocco gli ami è che è troppo forte Aia, fatto male Vai così di cinque colpi Non riesco a prenderlo Non riesco a prenderlo Aia Un po' non è qui Sì, basta Usala Usala Oh La usa Forse era questo il tasto giusto Aspetta, aspetta Lo possiamo perdere Dai No No Mancato Dio Oh Però non sono riuscito a usarlo Non funziona male la combinazione No Non la posso accettare Non la posso accettare Meglio a rifare Ma È cambiata la visuale O sbaglio Ora funziona tutto molto meglio Ora funziona tutto molto meglio In un'occasione E ci ce l'ho preso ancora Questo Questo No, ho appena detto Io sì Ok, va troppo Oh Tanto lo manca Cento per cento Anche qua mi sa che Mi alzo in faccia Però anche qua mi sa che Non prendiamo la Oh Molto meglio Molto meglio Ok Direi di andare alla missione numero 26 Vabbè no Non ci vado mai con Bakubo Perché con Bakubo abbiamo già avuto esperienze Quindi Usiamo Todoroki Ci siamo Ok Non mi ricordo per niente come si usa Perchè Ok Che piano di cancio all'aria Todoroki, beh questo è Todoroki, questo sostanzialmente è tutto Todoroki, va qua, così, normalmente Sbagliato, no, vabbè, finita mi sa, no, non è finita, ecco ora è finita, grazie, non so se usare Uraraka o Tsuyo, ma si rende in modi Uraraka, let's go, parte così, Uraraka, subito? Che combo, ahia però, non si fa, attenzione, come si rilascia, non me lo ricordo, Non so se si incastrava e uscirò fra l'infinito, oh finalmente si è avvicinata, adesso apri i primi, E addirittura 33, fenomeno Dai abbiamo pochissima vita, così, sempre ammazzate in faccia finiamo, vabbè Io direi che per oggi può andare bene, abbiamo fatto 10 missioni, quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciato un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo Alla prossima, ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.